Un saluto a tutti, io sono Adil Mebukkan, non vi preoccupate, sono italiano di adozione e di cuore e sono presidente di Procter & Gamble Salon Professional e di Vella Professional. Ringrazio Estetica che mi ha dato questa opportunità di salutarvi, siamo qui nella nostra sede di Ginevra e nel nostro salone che vi accoglie quando entrate in sede e sono circondato dai nostri brand, noi abbiamo un portfolio di brand che sono tra i migliori nel mondo di cui sono molto fiero. Io ho cominciato questo lavoro circa 10 mesi fa e veramente ho passato quasi tutto il mio tempo a visitare i saloni in giro per il mondo e se devo dire le due cose che hanno caratterizzato questi miei primi mesi, prima l'incredibile passione che esiste fra tutti i protagonisti di questa industria e l'altra il rapporto speciale che c'è fra tutti e soprattutto fra i parrucchieri, gli stilisti e noi di Vella. Vella è un'azienda che da 130 anni opera in questo mercato, ci considerano la madre dell'industria, che a me va benissimo come soprannome, siamo votati a darvi la migliore tecnologia sempre, ad essere molto focus sull'addestramento e sul training e una grossa parte di quello che facciamo è di essere sempre aggiornati sui trend e di condividere i trend con voi in un modo che potete usarli per amplificare la vostra creatività. Questo è quello che siamo e questo è quello che continuiamo a essere. Nel prossimo anno vi potete aspettare da noi grande innovazione, che continuiamo a enfatizzare il portafoglio prodotti e che continuiamo a cercare sempre nuovi modi di esservi vicino per nuovi servizi e per un'educazione ancora migliore. Vi auguro tutto il meglio, spero di incontrarvi presto e un caloroso saluto da parte mia.